Nel corso di questi anni ho avuto modo anche di toccare con mano l'affetto reale che i Campobassani hanno nei confronti della squadra. E allora mi sono sentito quasi nell'obbligo di dover partecipare ad una nuova sfida. Per cui quando Mario Gesue ci ha proposto un progetto che ritenevamo vincente da tutti i punti di vista, allora non siamo riusciti a sottrarci. Per cui da un lato sicuramente l'affetto personale per la società e familiare per la società, dall'altro un progetto strutturato che ha mezzi chiari e obiettivi chiari. Io ti chiedo cosa passa per la testa di un imprenditore dopo che ha già dovuto subire un primo stop, affrontarne un secondo e quindi portarci un'altra testimonianza come ce l'ha portata prima Amelia Mascioli. Tutto sommato capire come è difficile, far capire quanto sia difficile ripartire non una volta ma una seconda volta. Ma guarda, potrei risponderti facendo una citazione storica, diciamo così, citando la battaglia di El Alamein, dove c'è la lapide in cui si ricorda, mancò la fortuna, non il valore, ma non lo faccio perché quella fu una sconfitta e invece la nostra sarà una vittoria, diciamo così. L'entusiasmo che si è creato sulla squadra e che ancora persiste in mezzo a mille difficoltà, i risultati che la squadra finora ha raggiunto, un modesto per quanto fondato ottimismo sull'evoluzione degli impatti di questo virus e sulla ragionevolezza di un interlocutore politico, ci costringono in qualche modo anche ad essere ottimisti e a ritenere che questo momento passerà presto. Quello che sicuramente non accadrà è che né noi né evidentemente la squadra in generale farà un passo indietro. Abbiamo, come dire, le carte in regola per giocare un progetto fino alla fine e nonostante ricorderemo queste come delle difficoltà enormi, probabilmente mai vissute dalla nostra generazione, non è intenzione né mia né degli altri di fare anche solo un passo indietro. Quello che si è creato, secondo me, attorno al campo basso calcio è un fenomeno sociale di affetto collettivo in cui la popolazione, la cittadinanza si è stretta attorno ai propri valori ed ha riconosciuto il campo basso, che è l'emblema dello sport evidentemente cittadino, come un oggetto evidentemente per concentrarsi e rimanere più vicini in un momento anche difficoltà. Certo non possiamo andare allo stadio, ma vi invito tutti a continuare a attifare campo basso senza la più labile delle percezioni che ci possa essere un passo indietro da parte di nessuno. Lo dico sia da imprenditore, sia da persona relazionata a campo basso, sia come persona che singolarmente vuole bene alla squadra. Grazie. Grazie. Grazie.